Vediamo come compilare la domanda per la procedura per 1.435 posti di progressione di carriera del personale ATA. Andiamo sul sito del Ministero dell'Istruzione del Merito. Una volta entrati nel sito andiamo a scegliere dal menu del sito Argomenti e Servizi. Andiamo su Argomenti e Servizi e andiamo sul link dei servizi. Clicchiamo su Servizi e andiamo alla lettera P per individuare la piattaforma dei concorsi e delle procedure selettive. E facciamo Vai al servizio. Chi si deve loggare con Speed lo farà e entrerà nella lista delle istanze aperte. Scendendo in basso in questa lista troverà la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. Per cui si potrà fare compila la domanda. Facendo compila la domanda si entra in una pagina in cui la procedura valutativa per la progressione all'area di funzionario del personale amministrativo facente funzione DSGA ai sensi del DM 74 del 12 aprile 2024 indicherà le regole per la compilazione all'inolto della domanda e darà delle avvertenze e informerà sui dati personali e sul trattamento appunto dei dati personali. Scendendo in basso e facendo sì che si specifichi l'aver letto queste avvertenze e queste indicazioni si farà presa visione che è in verde si clicca su presa visione e quindi l'informativa sarà stata diciamo letta dopodiché si andrà sulla scelta della regione dunque cliccando su avanti andremo a scegliere la regione entro la quale fare la domanda. Ricordiamo che ci sono 1435 posti per cui si sceglie la regione per cui si vuole fare la domanda per esempio se la si vuole fare in Calabria si clicca la Calabria quando diventa verde si fa avanti facendo avanti si procederà nella compilazione della domanda si entrerà da prima in una pagina con tutti i dati anagrafici dell'aspirante a questo concorso dopodiché facendo ancora avanti si andrà alla compilazione vera e propria della domanda intanto la domanda risulta inserita. Andiamo a vedere come compilare le sezioni della domanda per gli aspiranti di SGA per la mobilità verticale previste ai sensi della legge ma anche ai sensi del nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021. Allora ci sono delle sezioni obbligatorie ci sono dei prerequisiti e dei requisiti da dover inserire. Tra i prerequisiti da inserire ci sono lo svolgimento come facente funzione di SGA per tre anni compreso l'anno in corso 2023-2024. Poi ci sono da dichiarare questi tre anni di servizioni di servizio ma andiamo a vedere anche il tipo essere assistenti amministrativi in ruolo avere un diploma di secondo grado e quindi avere il requisito di almeno dieci anni di anzianità di servizio nell'area di assistente amministrativo oppure avere una laurea magistrale vecchio ordinamento specialistica e avere anche rispetto alla laurea almeno cinque anni di servizio come assistente amministrativo. Andiamo a vedere come funziona l'inserimento. Allora se si indica il diploma di secondo grado la dichiarazione che scatta è di almeno dieci anni. Vedete dunque avere un diploma di secondo grado significa dover dichiarare almeno dieci anni di esperienza in quell'area di assistente amministrativo. Chiaramente l'assistente amministrativo deve essere di ruolo. Se invece si dichiarasse la laurea magistrale per esempio magistrale giurisprudenza gli anni di servizio nell'esperienza dell'area di assistente amministrativo calano a cinque aver maturato almeno cinque anni di esperienza sempre dichiarando di essere un assistente amministrativo di ruolo. Dopodiché si inserisce la data di conseguimento del titolo di laurea, si inserisce in questa casella, si dice in quale università ci si è laureati e si indica la laurea, il voto di laurea conseguito. Dopodiché avendo cura di guardare di aver fatto questa selezione si fa salva e bisogna dichiarare di essere appunto di aver maturato questi cinque anni e dunque rimane il titolo di accesso. Si va avanti. Qui si ha il titolo di servizio. Ricordiamo che ci sono tre anni obbligatori di aver prestato servizio. Ecco il C1 dove devono essere tre obbligatori. Si inseriscono e si va a indicare quali anni. 2020 per esempio 2021. Si indica quando la data del servizio e la fine del servizio. Vediamo, data del servizio può essere l'1 settembre 2020 e il 31 agosto 2021 il riferimento alla fine dell'anno scolastico. La denominazione presso il liceo scientifico da Vinci. Mettiamo Reggio Calabria. comune di Reggio Calabria. E dunque così fatto si salva il primo anno. Si ripete e si dichiara che il servizio è stato prestato come DSGA in un conferimento annuale. Per cui si può passare ad aggiungere un secondo anno e poi un terzo anno deve comprendere anche il 2324. In modo tale che questa sezione venga compilata. Dopodiché ci saranno da compilare le altre sezioni. Quella dei titoli valutabili che si inserisce. Ci sono le varie tabelle sui titoli valutabili che sono diversi dai titoli di servizio. Altre dichiarazioni che è sempre obbligatoria e i titoli di preferenza. sulle altre obbligazioni e sulle altre dichiarazioni è molto semplice perché c'è di essere cittadino italiano, di avere i diritti politici, di godere i diritti politici. Nel caso dei maschi il servizio di leva eventualmente per coloro che sono soggetti a tale obbligo di trovarsi in posizione regolare nei servizi per il servizio di leva e così via andando avanti. Alla fine della compilazione si raccomanda l'inoltro della domanda. Speriamo che con questo tutorial abbiate chiarezza nella compilazione di questa importantissima domanda. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.